Siracusa emergenza in 21 comuni interventi senza sosta. Prefetto Plauso ha valida azione di Coralità. Nella giornata del 10 febbraio sono proseguita senza assoluzione di continuità le attività del centro coordinamento soccorsi costituito presso la prefettura di Siracusa che in stretto raccordo con i centri operativi comunali attivati nei 21 comuni a Reteosei e il Dipartimento regionale di protezione civile ha coordinato le operazioni per fronteggiare le situazioni emergenziali registrate in conseguenza della severa ondata di maltempo che ha interessato la provincia. Sul intero territorio provinciale sono stati numerosi gli interventi volti alla messa in sicurezza delle persone e delle abitazioni isolate a causa di significativi allagamenti, specie nelle zone marittime di Siracusa, Avola, Noto e Pachino. A ripristinare la praticabilità di diverse arterie viarie invase da massi, detriti e in alcuni casi dall'acqua dei corsi esondati a riattivare l'erogazione dell'energia elettrica la cui interruzione ha anche causato la sospensione dell'approvvigionamento idrico in alcune aree provocando disagi in via di superamento. In corso di riapertura ai porti di Santo Panagia, ogni Namal, Zamemi e Portopalo nonché diverse arterie stradali via via che saranno ultimate le prime indispensabili opere di ripristino. Sospese per le giornate di oggi e domani le tratte Caltagirone, Lentini, Catania, Siracusa, Gela, Modica, Caltanissetta con probabile riapertura non è di prossimo. In corso di riapertura la tratta Siracusa-Catania con riduzione delle corse e previsione di bus sostitutivi. In considerazione del progressivo miglioramento della situazione delle più favorevoli previsioni meteorologiche fermo restando l'operatività dei centri operativi comunali per la gestione delle criticità residue il centro coordinamento soccorsi ha concluso la propria attività salva l'immediata riattivazione in caso di diversa sopravvenuta necessità. Nell'ambito delle rispettive competenze sono state impiegate le seguenti unità oltre 700 nell'ambito dei centri operativi comunali integrate da 25 funzionali del Dipartimento Regionale di Protezione Civile 50 dei Vigili del Fuoco con squadre fluviali provenienti da altre province 150 volontari di Protezione Civile, 200 delle Forze di Polizia Territoriale, 36 del Libero Consorzio Comunale di cui 6 da ditte esterne 12 dell'Espettorato Ripartimentale delle Foreste, 4 dell'Azienda Foreste Demoniali, 120 di E-Distribuzione S.P.A. tra tecnici e operativi di cui 30 da imprese esterne 40 di RFI, 20 di Telecom, 10 di ANAS, 10 del Consorzio Autostrade Siciliane. Al termine il Prefetto Giussi Scaduto ha rivolto un convinto ringraziamento ai sindaci e a ciascuna componente del sistema di protezione civile siracusano per l'incessante azione di corralità messa ancora una volta in campo a tutela della pubblica e privata incolumità. Un siccera apprezzamento è stato rivolto a ciascun volontario impegnato la cui consueta generosità continua a rappresentare il velo valore aggiunto nella capacità di risposta agli scenari emergenziali.